Siamo qui riuniti per l'ultima gita sociale, domani a gran fondo. Vero Carlo, buona giornata. Buona giornata, buona giornata. 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 Poi la stagione si chiude! È un buon gruppo! Un amico Carlo? Stiamo passeggiando sulle rive del fiume Po? Bell'ultima gita su Ciali! No? Perché sono due libere! Sì? Va bene! Alla prossima!